Progressivi allontanamenti dei voli dal centro urbano cittadino e ingenti spazi pubblicitari per Bitonto. È la risposta che il sindaco Michele Abbaticchio ha avuto dal management aereo portuale all'indomani della polemica scatenata sui social proprio dal nostro primo cittadino che non vedeva abbastanza riconosciuta la nostra città all'interno dell'aeroporto Carol Voitila di Bari, soprattutto dopo l'enorme risonanza mediatica avuta per l'inaugurazione dell'allungamento della pista di ben 3 km proprio nell'agro Bitontino a cui ha partecipato anche il ministro alle infrastrutture. Sono molto felice di essere oggi qui a inaugurare un upgrade tecnologico in realtà oltre che dimensionale dell'aeroporto di Bari che segna un punto avanzato di un sistema, quello aeroportuale pugliese, che si sta distinguendo in Italia per l'efficienza, un plauso per il fatto che è un sistema pubblico a dimostrazione che non esiste ideologia su questo terreno, ma la qualità delle persone che fanno funzionare i nostri sistemi, anche quelli complessi come quelli aeroportuali. Da parte nostra del ministero un grande impegno per garantire l'interconnessione tra tutto il sistema aeroportuale pugliese e portuale attraverso il rafforzamento e gli investimenti sulla parte ferroviaria. Nel dettaglio si tratta di 34 mesi di lavoro per 30 ettari acquistati nell'agro di Bitonto, 500 alberi d'olivo e spiantati tra monumentali e non poi reimpiantati e un investimento di 10 milioni di euro. Una nuova infrastruttura dunque che ha prolungato di 3.000 metri la pista dell'aeroporto Carol Voitila di Bari nella sua configurazione massima. Ci permette di aumentare innanzitutto il livello di sicurezza. Avere questa pista in più con tecnologia avanzata anche in termini di strumenti di visibilità consentirà di utilizzare l'aeroporto anche in condizioni di scarsa visibilità alle nostre latitudini. Quindi una pista più lunga che arriva a 3 km, 3.000 metri, permetterà un uso molto più in sicurezza e anche avere aeree a carico pieno, come si dice, ancora più importanti. Ovviamente un'espansione di territorio che è andata verso Bitonto. Questo era il cono cosiddetto di Bitonto a cui si vede anche da qui. Avere allungato la pista in questo modo significa anche avere ridotto la rumorosità perché gli aerei arrivano, misurandoli, si è visto che la rumorosità degli aerei cala se noi procediamo ad un allungamento della pista in modo tale da farli arrivare con più adeguatezza e più tranquillità ad atterrare.